Natale magro per i dipendenti degli enti regionali senza stipendio né tredicesima. Omicidio ieri sera nel centro storico di Gela, ucciso un tassista di 56 anni. Il giubileo della misericordia arriva anche ad Altavilla Milicia. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews oggi è venerdì 18 dicembre. Come avete sentito nei titoli sarà un Natale magro per i dipendenti degli enti regionali siciliani. In tanti non riceveranno né stipendio né tredicesima a causa dei mancati trasferimenti di risorse da parte della Regione. Sarà un Natale magro per migliaia di lavoratori degli enti regionali siciliani. In tantissimi non riceveranno né stipendio né tredicesima. A lanciare l'allarme sono i sindacati FP-CGL, CISL-FP e UIL-FPL che intervengono sul grave stato di crisi che stanno vivendo tutti gli enti regionali e territoriali a causa dei mancati trasferimenti di risorse da parte della Regione siciliana. Siamo sull'orlo di un conflitto sociale che è necessario scongiurare prima che sia troppo tardi, avvertono. Come se non bastasse alla grave crisi che già vivono i comuni e le ex province, infatti, si aggiunge adesso quella degli enti regionali. All'Istituto del Vino e dell'Olio i dipendenti non prendono stipendio da tre mesi e analoga problematica è vissuta dai lavoratori dell'Istituto Incremento Ippico, dell'ESA e delle Camere di Commercio e degli ERSU. Mentre all'IRSAP sono in gioco gli stipendi alle tredicesime, oltre alle proroghe per i precari. L'elenco però, fanno sapere i sindacati, è molto più lungo e tutte le pubbliche amministrazioni che vivono con i trasferimenti della Regione non ce la fanno più ad andare avanti e a garantire i servizi. Si prevede già una mobilitazione su ampia scala. Scenderemo in piazza nei prossimi giorni, concludono le tre sigle confederali, con tutti i lavoratori degli enti regionali e territoriali, per avere risposte certe dal Governo regionale sulle risorse finanziarie. A Palermo, inoltre, c'è apprezzione anche per la situazione dei circa 6.000 lavoratori del gruppo Almaviva. L'azienda, con una nota trasmessa ieri, ha comunicato ai suoi dipendenti la possibilità di licenziamento di circa 2.500 lavoratori già a partire da gennaio. I sindacati dei medici e dei veterinari contro l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi è saltato l'incontro e ha proclamato lo stato di agitazione. I sindacati dei medici e dei veterinari hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità in Sicilia e deciso di interrompere l'interlocuzione con il Governo Crocetta. La decisione è stata presa perché è saltato l'incontro tra l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi e le organizzazioni sindacali. Arlendor lo noti sindacati a Roy Emac, a Nao Assomed e Cigelle Medici. Probabilmente, scrivono i sindacati, l'assessore ritiene che il confronto con noi sia esclusivamente un passaggio burocratico e quasi un fastidio, altrimenti non si spiegherebbe questo comportamento che continua ad avere gravi ripercussioni sui cittadini e sugli operatori del servizio sanitario regionale in una regione dove l'accesso ai servizi è quasi impossibile, martoriata da listate attese insopportabili con turni di lavoro furilegge e con croniche carenze di organico. Pronta la risposta dell'assessore Gucciardi, che precisa che l'incontro si sarebbe tenuto, ma con ritardo, perché alla stessa ora stava partecipando all'incontro con le organizzazioni sindacali della dirigenza professionale tecnica e amministrativa e che in ogni caso la riunione è stata riconvocata lunedì 28 dicembre alle 10, sempre nei locali dell'assessorato regionale alla salute. Omicidio ieri sera nel centro storico di Gela. Un tassista di 56 anni, Domenico Sequino, è stato raggiunto da una serie di colpi di pistola, mafia, debiti di gioco o vendetta, le piste che i carabinieri stanno seguendo. Attimi di terrore a Gela, dove intorno alle 8 di giovedì sera un tassista, Domenico Sequino, 56 anni, è stato raggiunto da una serie di colpi di pistola. Da agire in pieno centro storico davanti alla chiesa madre sarebbero stati due motociclisti con il volto coperto dai caschi, che a bordo di uno scooter avrebbero esploso almeno 5 colpi. Soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito d'urgenza in ospedale, il tassista è deceduto pochi minuti dopo. Sono diverse le piste al vaio degli inquirenti. Il delitto potrebbe essere maturato negli ambienti mafiosi per via del passato della vittima. Potrebbe avere uno sfondo passionale oppure potrebbe essere stato ammazzato per debiti di gioco. L'uomo si trovava davanti alla chiesa e stava parlando con un amico quando è stato raggiunto alle spalle da 5 dei colpi esplosi con una pistola calibre 765 che lo hanno raggiunto in diverse parti del corpo. Sequino era finito nei guai nel 2006 quando fu incriminato nell'inchiesta dell'addia di Roma Cobra, ma poi venne assolto. Nel dicembre dello stesso anno fu coinvolto nel maxi blitz antimafia Tagli Pregiati, che coinvolse 88 presunti affiliati al clan Rinzivillo. Patteggiò la pene e venne condannato per associazione mafiosa a due anni di reclusione. Secondo i carabinieri, negli anni successivi si sarebbe avvicinato ad Emanuele Palazzo, affiliato alla Stida. Approvato un emendamento del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati per la bonifica delle discariche abusive. Bonifica delle discariche abusive in Sicilia e nel resto d'Italia più vicino, grazie all'approvazione di un emendamento alla legge di stabilità, a firma del Movimento 5 Stelle in commissione bilancio alla Camera. Prima firmataria la deputata palermitana Claudia Mannino. L'emendamento destina a questo scopo 30 milioni di euro, 10 milioni per il 2015, 10 per il 2016 e 10 per il 2017. Pur ritenendo la cifra abbastanza modesta, afferma la parlamentare, possiamo comunque ritenerci soddisfatti, già che il testo iniziale della legge di stabilità non conteneva nessuna risorsa economica per affrontare il dramma delle discariche abusive per le quali l'Italia sta pagando salatissime infrazioni all'Europa. Gli interventi di bonifica che sarà possibile realizzare con queste somme dovrebbero mettere al riparo la Sicilia e l'Italia da nuove infrazioni stabilite all'Europa. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma la deputata esattamente un anno fa condannato l'Italia per l'esistenza sul proprio territorio di 200 discariche abusive mai bonificate, 12 delle quali in Sicilia. Il Movimento 5 Stelle continua a stare con il fiato sul collo alle amministrazioni, ora la Sicilia, presenti i progetti di bonifica. Inaugurata all'ospedale Buccheri Laferla di Palermo un nuovo centro di ecoendoscopia con apparecchiatura all'avanguardia che permetteranno di effettuare esami diagnostici sempre più precisi. A donare i nuovi endoscopi è stata la fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo. Il Buccheri Laferla in Italia è una eccellenza e lo è da tempo. Ha dei reparti all'avanguardia nel campo della natalità a Roma e nel campo della ricerca delle patologie qui in Sicilia. A noi è sembrato doveroso, come abbiamo fatto nel passato, intervenire con un macchinario di avanguardia a Roma, farlo anche a Palermo. A Palermo doppiamente, visto che è la città alla quale ho avuto il privilegio alcuni secoli fa di essere nato. La crisi della sanità nel nostro paese è la testimonianza di una non sensibilità ai problemi della gente. Questo fenomeno che oramai si manifesta da decenni fa sì che i settori più drammatici, che sono appunto la salute, la ricerca scientifica e l'aiuto ai meno fortunati, sia diventato una delle ricorrenti affermazioni non seguite da concrete operazioni. Il malato non viene mai trattato con un numero, ma viene trattato come persona. Quindi è una delle cose che eventualmente caratteristicano la nostra missione, la nostra missione ospedaliera, perché il fondatore ha voluto che trattassimo le persone come persone umane, persone che abbiano bisogno di qualsiasi tipo di rispetto, ma soprattutto che abbiano bisogno di essere curati e di avere un'assistenza che sia non solo all'avanguardia, ma che sia meno invasiva, meno traumatica e che in modo che loro potessero vivere in un ospedale a dimensione proprio umana. Avere degli strumenti di qualità consente di ottenere una miglior performance diagnostica, faccio degli esempi, con le strutture non ad alta definizione si vedono soltanto il 20% dei polipi, grazie a tecnologie avanzate come questa ad alta definizione noi raggiungiamo anche performance del 40% di riscontro di polipi, quindi raddoppiamo la qualità diagnostica e questo ci consente anche di migliorare la performance terapeutica perché vedendo meglio i margini delle lesioni possiamo già dire inizialmente se sono delle lesioni da asportare assolutamente o che possono rimanere e quando le asportiamo, le asportiamo con maggior precisione. Il Giubileo della Misericordia arriva anche ad Altavilla Milica. Domani alle 18 l'Arcivesco Emerito Cardinale Paolo Romeo aprirà la porta del Santuario Mariano. Sabato pomeriggio 19 dicembre alle ore 17.45 avremo la gioia di aprire presso il nostro Santuario Mariano Diocesano di Altavilla Milica una delle quattro porte giubilari che nella nostra diocesi sono state scelte dall'Arcivescovo per consentire a tutti i fratelli e le sorelle nella fede a tutti i fedeli e i devoti della Madonna in questo caso di poter celebrare questo straordinario Giubileo della Misericordia che come tutti sappiamo è stato fortemente voluto da Papa Francesco. Verrà ad aprire la porta il Cardinale Paolo Romeo, l'Arcivescovo Emerito e potremo vivere insieme questo momento di grazia che il Signore concede a tutti noi, non solo gli abitanti di Altavilla ma appunto a tutti coloro che coltivano una vera devozione alla Madonna della Milica, a quanti hanno la consuetudine di frequentare questo Santuario per coltivare il loro cammino spirituale e crescere nella propria vita alla sequela di Gesù. Una grande opportunità, il Santuario, la porta del Santuario resterà aperta durante tutto quest'anno fino alla domenica precedente, la festa di Cristo Re di novembre 2016. Ci saranno molte iniziative che sono già in cantiere e in progettazione durante tutto quest'anno che verranno realizzate qui nel Santuario e offriranno a tutti la possibilità di riflettere sulla propria vita, sul proprio cammino di fede, sulla propria condizione cristiana in modo da poter attivare tutti quei processi di conversione che sono necessari per conformarci a Cristo, nostro unico Signore e Salvatore del mondo. Un flash mob natalizio di danza per i bimbi ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale dei bambini di Palermo. L'iniziativa si svolta ieri su proposta del Consiglio della prima circoscrizione. Devo dire che abbiamo deciso insieme all'International Paladance in questi giorni di organizzare all'interno del reparto oncologico, oncoematologico del civico un flash mob di danza con l'International Paladance. Quindi insieme alla Commissione Attività Sociali e insieme al Consiglio della prima circoscrizione e tutto abbiamo portato avanti questo progetto. Pertanto oggi siamo qui appunto per dare la possibilità a questi bambini di far vivere magari un momento di gioia, un momento di felicità, visto che è considerato che purtroppo le situazioni qui dentro non sono delle migliori. Abbiamo voluto organizzare questo flash mob per portare un po' di gioia a questi bambini che ne hanno tanto bisogno e noi come ragazzi di 22 anni, io 22 anni, mio fratello 27, quindi coetaneo, cerchiamo appunto di far crescere questi bambini e diamo una mano a loro per essere felici e vivere un giorno di divertimento e di gioia. Questa è la solidarietà che noi abbiamo voluto creare? Io innanzitutto rappresento l'associazione dei genitori, l'associazione dei genitori che da 30 anni, oltre 30 anni, supporta e sostiene le famiglie e i bambini ricoverati appunto presso il reparto di oncologia pediatrica di Palermo. Oggi è un bel momento perché comunque con questo flash mob si vuole portare un momento di allegria, un momento di gioia, un momento di condivisione di quello che è la vita in ospedale. Noi siamo qui proprio per sostenere tutti i bambini e con la nostra mission in ospedale come a casa cerchiamo proprio di portare all'interno dell'ospedale tutto ciò che si deve avere a casa e si ha a casa. La solidarietà che arriva dall'esterno per noi è fondamentale, ma soprattutto per loro. E alla scuola Don Milani di Villa Abate una grande festa per augurarsi Buon Natale. Abbiamo voluto fare gli auguri ai bimbi e raccontare ai bimbi cos'è la festa cristiana del Natale, che è una festa di luce, di gioia, di accoglienza dove ogni bimbo ci viene ricordata la nostra sensibilità ad accogliere ogni vita umana, la vita umana la più deboli in maniera particolare che ha bisogno delle nostre cure. Il Natale ci invita alla cura dell'altro. È la festa dell'accoglienza perché così come dobbiamo accogliere Gesù nella nostra vita, dobbiamo accogliere coloro che il Signore ci mette accanto. Un buon e santo Natale di Gesù a tutti. Caro Gesù bambino, dona al mondo tanto amore e fai finire le due. I giocatori del Palermo Franco Vasquez, Antonino Lagumina, hanno inaugurato il campo dell'amicizia nella parrocchia di San Sergio Primo Papa nel quartiere Sperone di Palermo. Il nuovo terreno di gioco è stato donato dal progetto Junior Team Cup, il calcio negli oratori promosso dal centro sportivo italiano Lega Serie A e Team. Un nuovo campo di calcio per l'oratorio della parrocchia di San Sergio Primo Papa a Palermo nella zona tra Brancaccio e lo Sperone. Il nuovo spazio denominato Campo dell'amicizia è il risultato della Junior Team Cup, il calcio negli oratori, iniziativa promossa da Lega Serie A, CSI e Team. È realizzato grazie ad un fondo istituito anche con le ammende combinate e tesserati alle società di Serie A dal giudice sportivo durante il corso della stagione 2014-2015. L'iniziativa replica quelle di Scampia a Napoli, Monserrato a Cagliari e a Genova negli anni scorsi. All'inaugurazione sono intervenuti oltre a diverse figure istituzionali dello sport italiano Franco Vasquez, Antonino Lagumina, Dario Baccin e Lorenzo Farris, Cesare Lapiana, assessore allo sport del Comune di Palermo, il parroco Pietro Leta e i bambini dell'oratorio. Presente anche l'arcivescovo Monsignor Corradolorefice che ha dato la benedizione al nuovo campo. Franco Vasquez, Stella del Palermo, ha affermato che un campo da calcio diventa sempre un punto di riferimento per tutti i ragazzi. È importante creare nuovi spazi dove i giovani possano giocare in compagnia, crescendo come persone e divertendosi correndo dietro a un pallone. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni.